Musica Benvenuti con il primo appuntamento di On Bortigi da Wilka Nazionale con in apertura il tema caldo che ha contraddistinto la fine del 2015, ovvero il decreto salvabanche. I segretari generali del credito il 12 gennaio hanno incontrato il presidente dei quattro istituti salvati dal decreto di fine novembre Roberto Nicastro. Il presidente durante l'incontro ha confermato che gli istituti saranno venduti entro l'estate in un unico blocco o separatamente. I sindacati hanno chiesto garanzie per i dipendenti e la tutela legale per i lavoratori che hanno collocato le obbligazioni subordinate hanno ottenuto delle risposte parzialmente positive. Sentiamo a riguardo le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal segretario generale della Wilka Massimo Masi e dai segretari responsabili dei coordinamenti Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria, Nuova Carife, Nuova Carichieti presenti all'incontro. Vediamo. L'incontro di oggi con il presidente Nicastro è stato abbastanza positivo. Abbiamo posto come sindacato alcune problematiche. La prima, il mantenimento e la garanzia dei posti di lavoro. C'è stato risposto che si valuterà con la Bad Bank come verranno affrontati i problemi, il mantenimento delle professionalità e anche verranno cercate nel possibile di ottemperare alle richieste di personale. La seconda, il fatto che noi abbiamo chiesto in maniera molto forte è quello del confronto con i risparmiatori. Abbiamo fatto presente che il fondo da 100 milioni inserito nella legge di stabilità probabilmente non sarà sufficiente a coprire tutti. C'è stata risposta che si stanno facendo delle verifiche e che fino ad oggi forse si rientrerà in questa cifra. L'altro aspetto qualificante che abbiamo posto oggi all'incontro è stato quello della tutela legale dei lavoratori. Abbiamo chiesto quindi al presidente che i lavoratori che venissero incolpati o portati giudizio su questa materia della vendita delle obbligazioni subverlinate non ne rispondessero personalmente. L'azienda anche su questo ha dato risposte diciamo abbastanza positive ma non esaustive in quanto noi crediamo che la responsabilità non è e non possa essere dei lavoratori che hanno venduto prodotti dalla loro stessa banca. Ecco perché noi non siamo d'accordo con questa campagna che sta venendo di negatori nei confronti della nostra categoria perché se sono stati fatti abusi bisogna anche dividerli, vedere come sono stati effettuati. non dimentichiamo sempre detto dal presidente Nicastro che oltre il 50% della vendita di questi prodotti è stata fatta fuori dalla legge MIFID rispetto alle nuove regolamentazioni. Ecco perché bisogna fare chiarezza su questo aspetto. Inoltre abbiamo chiesto i tempi di questa procedura di vendita delle banche. Il presidente Nicastro ci ha confermato che entro l'estate si farà questa procedura. oggi sono interessate tre tipi, tre tipologie di banche, banche italiane, banche straniere e private equity. Abbiamo detto che preferiamo la prima fase, quella cioè di banche italiane, anche se non si esclude, e lo stesso presidente l'ha confermato, la vendita in blocco di queste quattro banche. Oggi noi crediamo che con il risonamento, con la creazione delle bad bank, con la creazione di questi nuovi strumenti, le banche siano pulite e sane e quindi facilmente accessibili e facilmente vendibili. Questo credo che sia un risultato e un premio che va a quei lavoratori di queste quattro banche che hanno pagato e stanno pagando oggi ancora dei prezzi grandissimi, non per colpa loro ma per colpa di quelli che li hanno amministrati. Infine, come ha scritto nel comunicato stampa che abbiamo emesso nei giorni passati, chiediamo che tutti i responsabili delle banche che hanno gestito le banche fino ad oggi, che hanno compiuto questi atti, siano processati, siano allontanati da tutti i circuiti finanziari, perché purtroppo abbiamo l'impressione che qualcuno di questi potrà essere riciclato. Vogliamo che i colpevoli paghino e non paghino i lavoratori per quello che hanno fatto. Banca Marche nell'ambito delle quattro banche salvate tra virgolette dall'ecreto 183 del 2015 e del novembre scorso è la banca in assoluto più grande, perché sostanzialmente ha numeri quasi doppi rispetto alla stessa banca Etruria. In quest'ambito è quella che in qualche modo però per effetto del salvabanche è quella che sta facendo forse più difficoltà delle altre ad uscire dalla situazione di impasse per via della costruzione della propria clientela, perché comunque molti gruppi familiari sono stati colpiti dagli effetti del decreto e conseguentemente c'è la tendenza a allontanarsi dalla banca stessa con tutti i rischi che sono connessi da un punto di vista occupazionale. Questa mattina a Roma, nella sede di Banca Marche via Romagna, c'è stato l'incontro con il Presidente Nicastro, incontro che francamente mi ha lasciato un po' deluso perché comunque a distanza di circa 20 giorni dall'ultimo incontro che tutti noi segretari di coordinamento avevamo avuto il 22 dicembre scorso, non è stata fatta di carezza, ci sono ancora troppi punti rimasti in sospeso. È rimasto in sospeso il ragionamento sulla gestione della VED Bank dove comunque il personale interno deve prestare la propria attività lavorativa, è rimasto ancora in sospeso il ragionamento legato ai rimborsi che evidentemente il fondo una volta aperto l'arbitrato dovrà fare nei confronti dei risparmiatori non sapendo se poi il fondo stesso andrà a rivalersi nelle banche o sui lavoratori. Diciamo che c'è ancora una grossa situazione di incertezza a cui speriamo e confidiamo che il Presidente vorrà dare un chiarimento quanto prima. L'incontro di oggi con il Presidente Nicastro è stato abbastanza soddisfacente, alle nostre risposte non è entrato nel merito ma comunque ha tentato di darci alcune nuove notizie. Per quanto riguarda la realtà di Banca Truia dove io lavoro, volevo fare un piccolo riferimento al pacco bomba che è stato lasciato davanti alla filiale di Perugia, non possiamo far sì che le responsabilità cadano sulle teste dei vari colleghi in quanto sono gli ex vertici delle quattro banche che hanno causato tutto questo disastro e hanno creato i dissesti bancari che sono sulla bocca di tutti. Quindi a questo punto io vorrei un attimino che il Presidente e i vari amministratori delegati delle quattro aziende facessero un'azione di sensibilizzazione nei confronti dell'opinione pubblica per far capire che i dipendenti, lo ribadisco, non hanno nessun tipo di responsabilità. L'incontro con il Presidente Nicastro è stato abbastanza soddisfacente. Alle nostre domande purtroppo però non sono state date disporse e complete. Ci aspettavamo di magari sentire qualche nome di qualche istituto che ci poteva eventualmente acquistare. Speriamo che la vendita avvenga in fretta e in tempi brevi in quanto Cassa di risparmio di Ferrara ha avuto un commissariamento durato purtroppo due anni e mezzo, con grandi sacrifici dei dipendenti. Questa fase è sicuramente molto delicata e ci aspettiamo anche un sostegno da parte della politica. Nell'incontro odierno con il Presidente Nicastro, secondo il mio parere, non ci sono state date delle risposte concrete a dei quesiti che abbiamo posto noi come sigli sindacali. I principali riguardano sia la Bad Bank, come verrà strutturata e soprattutto come verranno collocati i dipendenti all'interno di questa realtà. Per quanto riguarda invece i risparmiatori, anche lì non siamo stati in qualche modo sufficientemente chiariti sulla definizione di questa situazione che si è creata nei confronti sia dei risparmiatori come ho detto che dei lavoratori. In questo caso stanno cercando di creare un arbitrato con il quale intervenire caso per caso, anche perché l'intervento caso per caso viene predisposto su quelle fatti specie che hanno delle diversificazioni di investimenti. Cambiamo ora argomento e passiamo a trattare delle notizie che ci arrivano dai vari gruppi. Partiamo dal gruppo Monte Paschi di Siena dove la vigilia di Natale si è raggiunto un accordo di rilancio e valorizzazione della contrattazione di secondo livello. I sindacati si dicono soddisfatti del risultato raggiunto avendo respinto con forza l'iniziale proposta aziendale orientata a confermare le decurtazioni sulle spese per il personale previste per i triennio 2012-2015. Ascoltiamo le testimonianze della segretaria nazionale Wilka Maria Teresa Ruzza e del segretario responsabile del gruppo Carlo Magni. Nella mattinata del 24 dicembre in Monte Paschi si è realizzato un importante incontro per il rinnovo della contrattazione di secondo livello. Considerato la partenza degli incontri in Monte Paschi che aveva visto la volontà dell'azienda solo di ridurre i corsi del personale, si è invece riuscito a ribaltare la posizione grazie alla forza e alla determinazione delle organizzazioni sindacali e al loro lavoro unitario. La contrattazione di secondo livello è estremamente importante proprio per la sua realizzazione anche a seguito di quelle che sono state i dettami del contratto nazionale. Per la prima volta dopo 4 anni è stato reinserito un premio aziendale nella misura di 300 euro con un piccolo rialzo per i redditi minimi, ma soprattutto si è realizzato il premio variabile di risultato. In questo modo stabilendo dei criteri molto precisi e quindi togliendo discrezionalità all'azienda e creando dei parametri che varranno anche per il futuro. Quindi in applicazione dell'articolo del contratto nazionale che parlava appunto della possibilità di contrattare i sistemi di assegnazione del premio variabile di risultato. Sono poi state realizzate anche cose importanti in materia di formazione, in materia di criteri valutativi, ma la cosa più importante sono state introdotte delle ulteriori commissioni paritetiche sul nuovo modello di banca, sull'organizzazione aziendale che si vanno affiancare a quella già costituita precedentemente sulle pressioni commerciali e questo ha significato del riconoscimento da parte dell'azienda dell'importanza di relazioni con le organizzazioni sindacali chiare, precise, improntate a grande senso di responsabilità. Un'altra cosa molto importante è stata l'introduzione di un contributo straordinario a carico delle retribuzioni superiore a 150 mila euro e questo nell'ottica anche di una forma di ridistribuzione di equità distributiva che è sempre molto importante visto che fino ad oggi i sacrifici erano stati affrontati solo ed esclusivamente dalla parte più bassa dei lavoratori. L'accordo raggiunto il 24 dicembre in banca a Monte dei Paschi introduce elementi di solidarietà generazionale e di equità sociale mantenendo inoltre una contrattazione di secondo livello che il sindacato ha voluto definire in tutti i suoi aspetti dal punto di vista metodologico prima di affrontare il capitolo dei costi considerato invece prioritario dall'azienda. E proprio sulla contrattazione di secondo livello si registrano le novità più importanti che discendono peraltro dai demandi in tal senso previsti dalla CCNL. Si è reintrodotto dopo quattro anni il premio aziendale e regolamentato per la prima volta il premio variabile di risultato che implica la integrale negoziazione del sistema incentivante ed una correlazione distributiva tra premi aziendale e sistema incentivante medesimo. Tutto questo con una particolare attenzione ai giovani che beneficiano di premi maggiorati rispetto alla media secondo quel criterio di solidarietà generazionale di cui parlavamo in apertura. È stata inoltre scongiurata la disapplicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali in scadenza il 31 dicembre 2015, migliorando inoltre il meccanismo della base di calcolo del TFR e del contributo del datore di lavoro al fondo di previdenza complementare rispetto all'attualità. È stato anche migliorato il complessivo impianto dedicato allo sviluppo professionale dei dipendenti e completamente riscritto il capitolo relativo al sistema di valutazione. Sul versante dei costi invece si è proceduta ad individuare misure alternative a quelle proposte dalla controparte non operando in maniera esclusiva sul costo del lavoro ma gravando anche sul fronte del contenimento delle spese generali e codificando per la prima volta il contributo dei top manager e delle figure professionali di tipo apicale al piano di abbattimento dei costi operativi in ottica, come dicevamo prima, di equità sociale e distributiva. Infine è stato introdotto un meccanismo di fruizione volontaria per le giornate di solidarietà che per i lavoratori più giovani sono state ridotte da 6 a 5. Un buon accordo quindi soprattutto considerando il contesto economico e di settore oltre alla delicata situazione in cui ancora si trova la nostra azienda. Il 23 dicembre scorso si è sottoscritto un importante accordo nel gruppo UBI sulle 339 domande di esodo precedentemente non accolte alle quali si aggiungono ulteriori 79 domande volontarie di esodo e di pensionamento incentivato per i colleghi che hanno la finestra pensionistica al primo giugno 2020 dando priorità ai lavoratori con gravi problemi di salute. Le organizzazioni sindacali hanno ottenuto con questo accordo anche l'assunzione da un minimo di 130 ad un massimo di 160 giovani nel gruppo utilizzando nuovi inserimenti e stabilizzazioni dei precari. Ci spiegano i dettagli dell'accordo il segretario nazionale Wilka Fulvio Furlan e la segretaria responsabile del gruppo Claudia Dabbene. L'ultimo accordo raggiunto nel gruppo UBI è un accordo che presenta aspetti positivi per quanto riguarda le soluzioni sebbene si inserisca comunque in un percorso di riduzione del costo del lavoro già avviato da qualche tempo che continua a essere proposto dall'azienda e quindi c'è questo elemento che come organizzazioni sindacali contestiamo, come Wilka contestiamo della continua ricerca del taglio del costo del lavoro incidendo sul costo del personale. Dopodiché le soluzioni trovate comunque sono positive in termini di volontarietà per l'accesso alle uscite dall'azienda da parte dei lavoratori che presenteranno domanda e soprattutto perché c'è un buon piano di ingresso di giovani anche con stabilizzazione di posti di lavoro e quindi in coerenza anche con gli aspetti sociali e di crescita dell'occupazione, soprattutto giovanile, definiti anche nel rinnovo del contratto nazionale. È evidente che queste soluzioni sono importanti per quanto riguarda la situazione relativa al singolo accordo ma quello che ci preoccupa e che non condividiamo è un'impostazione dell'azienda che non consente di definire un progetto organico e un piano organico che guardi al futuro. Siamo sempre a dover rincorrere soluzioni proposte dall'azienda tempo per tempo che puntano al taglio del costo del lavoro ma non riusciamo a definire un piano organico per il futuro. Ecco, noi chiediamo, crediamo che sia importante invece andare verso questa logica questa logica che consente di dare alle lavoratrici e ai lavoratori che sono in servizio tranquillità e serenità per il futuro, certezze per il futuro, certezze in termini di ingressi di nuovi lavoratori efficaci e operativa nel senso che i lavoratori in servizio possano poter svolgere i carichi di lavoro sempre crescenti non in affanno ma anche sostenuti da colleghi che arrivano ad aiutarli e quindi in una situazione che sia di maggiore organicità e maggiore prospettiva e lungimiranza. Altrimenti siamo sempre a rincorrere soluzioni che anche se socialmente sostenibili, se positive per l'ingresso di nuovi lavoratori però non hanno una visione prospettica. Nella nottata del 23 dicembre le organizzazioni sindacali e la direzione di UBI hanno raggiunto un accordo che permette di soddisfare le 339 domande di esodo volontario che i colleghi avevano presentato all'azienda nel 2014 nell'ambito della procedura che fu nominata tensioni occupazionali ed eventuali altre 70 domande. L'accordo raggiunto è molto soddisfacente, questo è un momento difficile di forte contrazione di mercato, i lavoratori che usciranno dalla banca hanno mantenuto le ottime condizioni del precedente accordo, ovvero l'85% della RAL. Abbiamo favorito inoltre, dando di priorità assoluta, le domande dei colleghi che fruiscono della previsione della legge 104 per se stesso, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità del 67% e che vivono quindi un disagio oggettivo. Inoltre, fiore importantissimo all'occhiello dell'accordo in perfetta coerenza con le politiche perseguite dalla UICA, l'inserimento dei 130 giovani, a mezzo stabilizzazione di lavoratori precari e delle proprie assunzioni, alle quali si potrebbero essere aggiunti altre 30 inserimenti, qualora pervenissero le altre 70 domande. Insomma, è stata una notte di lungo e forte dibattito sindacale che però ha dato dei risultati positivi, in quanto ancora una volta il sindacato ha potuto rimanere vicino ai giovani e vicino ai più deboli. Bene, per il primo board DG della UICA nazionale dell'anno è tutto, vi ringraziamo come sempre per l'attenzione e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci! Grazie a tutti!